Emettiamo un prestito obbligazionario, quindi un social bond. Il pieno collocamento di questo social bond consentirà alla banca di essere vicino ad un importante progetto sociale che è la costruzione di una scuola secondaria nel Malawi. Parte del contributo, quindi uno 0,50 del ricavato di questa emissione, varrà devoluto a questo importante progetto con un importante risvolto sociale. Stiamo parlando di uno 0,50 su un collocamento di complessivi 5 milioni di euro il buon successo del collocamento, quindi il completo successo del collocamento, consentirà un'erogazione liberale da parte della Banca Popolare di Bergamo all'associazione Malawi nel Corio Ollus di circa 25 mila euro. È un social bond con delle caratteristiche particolari, quindi appetibili per la clientela sottoscrittore. Ricordo che è un prestito obbligazionario per nuova raccolta, quindi welcome edition, per clienti, per già clienti della Banca Popolare di Bergamo, per nuovi clienti. È un prestito obbligazionario della durata di 36 mesi, che consente di percepire il primo e il secondo anno un tasso lordo del 2,75%, a partire dal terzo anno il tasso, la cedola con frequenza semestrale, è un ribora a 6 mesi più uno spread di 100 basis point. Grazie a tutti.